Il Purgatorio di Dante di Federico Tiezzi è stato riproposto sulla scena dopo più di 30 anni. La veste è del tutto nuova rispetto a quella osservata e apprezzata nel 1990. L'opera come sottotitolo La notte lava la mente. Come autore figura Mario Luzzi. Luzzi con la drammaturgia di Tiezzi e Lombardi combinò alcune parti liriche da lui elaborate con la cantica della Divina Commedia. La rappresentazione ha già toccato vari teatri della Toscana. Quello che colpisce in particolare è la natura dell'allestimento. Le anime del Purgatorio paiono essere collocate in un contesto quasi assettico. Uno spettacolo della qualità poetica molto elevata e capace di rendere giustizia alla grandezza del Divin Poeta. Un cast di attori tutti da elogiare. Abbiamo avvicinato Sandro Lombardi in un momento di pausa prima di andare in scena. Questo Purgatorio centrale per l'anno scorso, per i 700 anni dell'anniversario di Dante, ci è stato richiesto di rifare questo progetto triennale. Però siamo partiti dal Purgatorio e non dall'Inferno. Di Inferno ci n'era già abbastanza nelle vite di tutti. Avete voluto esorcizzare qualcosa? No, abbiamo voluto dare un segnale partendo dalla cantica che tratta soprattutto di speranza, di amicizia e di evoluzione, di guarigione, di purificazione, di spurgo delle inclinazioni negative. Artisti nuovi, come si sono applicati a questo lavoro? Ci siamo molto preparati prima dell'inizio delle prove, lavorando sulla terzina incatenata dantesca, sull'endecasillabo, sul significato, su che cosa può significare per un attore la scoperta di dove Dante sistema gli accenti e così via. E si è creata una compagnia davvero bella, davvero solidale. Insomma, io sono felicissimo.